Grazie a tutti, grazie Mario, grazie a Consumer Forum che ci consente ogni anno di portare una ricerca che sta arrivando a una definizione di contenuti non solo tecnico ma anche sociale perché questa ricerca, noi l'abbiamo chiamata quest'anno un passaggio dalla scena economica social-economica, ha un valore questo, lo vedremo, potremmo chiamarla in tanti modi, potremmo chiamarla anche data-economica e invece la definizione social-economica ha un valore perché noi abbiamo orientato la ricerca di quest'anno partendo da quelli precedenti cercando sostanzialmente i due fuochi per indicare una prospettiva. Una prospettiva parte da due fuochi e poi un punto di fuga. I due fuochi abbiamo indicato quest'anno un episteta da un lato e un take-inus dall'altro. Sono ovviamente fuochi individuali da una prospettiva che consente di interpretare la realtà. Poi dipende ovviamente dal punto di fuga, a seconda del punto di fuga che scegliete avete una prospettiva di rezza. Il punto di fuga può essere in una cave oppure può essere la democrazia. In termini take-inus parliamo di questo. Noi abbiamo scelto ovviamente un terzo punto di fuga che è quello del reclutare dei diritti. Per cui cosa accade? Che quando lo individuiamo in questo modo, vediamo una prospettiva in relazione alla quale poi il mercato diventa una derivata. E la democrazia finisce per essere lo sfondo, lo scenario, per dirla in termini finanziari, non soppostante, non collaterale. Ovviamente tra i due, tra Big Data e il fake news l'ancora sono il Big Data. E sono proprio un'ancora da cui abbiamo, ci siamo partiti per l'iniziale di ricerca. Ovviamente però l'ancora ha una funzione che dipende da due variabili. La prima è il fondale, per cui si hanno, quindi dipende da dove ci andiamo a collocare. La seconda è la lunghezza della cima e quindi gli strumenti di cui ci siamo guardati. Questa è importante perché siamo in una fase in cui obieziamente, come diceva anche il bianco, insomma la nostra è una fase di crasici del sistema, in cui i Big Data consentono una gestione dei dati così specifica, è una profilazione individuale che di fatto sposta completamente tutti gli assi del sistema. Perché? Perché noi non abbiamo più una tutela dei consumatori, abbiamo una tutela del consumatore, dell'individuo. Questo scomposta una serie di conseguenze di un piano sistemico devastante perché eravamo appena arrivati a definire la finalità ultima della concorrenza, stessa. Dobbiamo in qualche modo ricalibrarla, perché l'energente non è più la tutela appunto dei consumatori, diretta o indiretta, perché è il consumatore individuo che viene superato. E questo comporta anche dei porti circuiti, come lo diamo nelle sentenze recenti dal corpo di ingiustizia, anche nel mercato Huawei, dove si tutela l'impresa in posizione dominante rispetto all'interesse dei consumatori. Ma perché tutto questo? Perché di fatto sono i Big Data che scardinano il sistema del tuteo, fanno iner meno il concetto di mutualità e questo comporta una serie di conseguenze che sono devastanti ma in termini anche abbastanza rapido, lo vedete, lo vedremo, ciò che andrà le assicurazioni. È chiaro che nel momento in cui c'è una possibilità di profilare in modo così specifico, ciascuno di noi potrà avere l'assicurazione anche adeguata alle proprie esigenze, ma probabilmente il sistema complessivo che secondo sua modalità in qualche modo ne resistirà. Ma pensate all'elettricazione ulteriore, anche al settore dei trasporti, perché è la conoscenza della geolocalizzazione, quindi la possibilità di individuare gli spostamenti di ciascuno, porta a avere potenzialità di periodi, di sostegno, di diritto individuale. Questo fa venire meno il concetto di servizio pubblico da cui muoviamo e quindi l'intero welfare europeo, sostanzialmente. Perché? Perché il sistema del welfare europeo si basa su una base di diritti garantiti a tutti, un floor minimo di potele che adesso viene meno, perché le potele a cui siamo abituati non sono più quelle di peste e perché le nuove potele sono quelle fornite dalle imprese e quindi il consumatore ne ha in qualche modo la gestione della mia. Capisco che questa può sembrare una visione liberista, no? Perché ci imitiamo al minimo, al floor minimo garantito a tutti che è, diciamo, una concezione tipicamente diversa. Ma, paradossalmente, è l'unica funzione sociale che possiamo garantire oggi. Ed è per questo che noi abbiamo dato questo tipo social economico, non dei dai comuni, perché partiamo da questa tradizione. Evidentemente, nella fase di crasi attuale, dobbiamo contrastare anche quello che è quella che è una vulgata ormai corrente, da cui poi fake news e i temi conseguenti, che la vulgata è un po' la seguente. La scienza non è democratica e quindi dobbiamo consentire una gestione di informazioni che parte invece da un concetto di democraticità che costa un po' per quello scientifico. E, paradossalmente, se voi guardate il dibattito, non è tanto diverso da quello che avevamo all'epoca dell'unismo. E' proprio queste le contestazioni di una scienza che doveva essere discussa a un livello più basso e quindi se ne contestava la democraticità. Si arriva all'epoca, come oggi, e poi la supersezione della complessità. E allora, come allora, la definizione dell'unismo che è più coerente con la situazione al cuore, poi è un po' quella di canica, che diceva che a parte di niente, l'unismo è uscire dallo stato di minorità, a cui però ci siamo volontariamente condizionati. Quindi, abbastanza rileva il coraggio di usare la propria intelligenza. E il coraggio è proprio il tema da cui dovremmo partire oggi. Questo vale per l'individuo, quindi vale per il consumatore, quindi vale per l'educazione anche per il consumatore. Quindi tutto questo tema regolatorio deve essere ripreso ma con vigore, ma vale anche per i regolatori perché? Perché devono avere il coraggio di intervenire su una regolazione che di fatto è priva di altri, è priva di sistemi. Perché? E' vero quello che diceva prima. Oggi la regolazione è una regolazione che è talmente specifica e va su stilo regolatori così verticali ma separati gli uni dagli altri che è venuto meno al contatto con il sistema. E però siccome la regola non muove tanto il sistema, come diceva Casmi, nel 800 quando parlava della reazione della società delle nazioni ai conflitti belgici, come diceva la regolamentazione internazionale è un po' come la rete di Norrani che per gli insetti non prendono i sassi. Il sistema è un po' questo, è il parametro della tenuta del sistema rispetto alle avversità. Un po' diciamo uno stress test che possiamo fare. Ebbene il problema di oggi è che la regolazione è talmente individuata su stilo regolatori che di fatto ha perso il contatto con il sistema. E lo vediamo da razza di prudenza della corte di giustizia ma se volete anche il Consiglio di Sartre ha detto a tutti i modi quando è intervenuto varie volte nel rapporto tra regolazione e concorrenza. Ha detto sì, va bene la regolazione settoriale, va bene il sistema, ma attenzione che il sistema non è mai completo e quando non è completo è permeabile. È permeabile alle norme generali, è permeabile ai principi di diritto, è permeabile anche alle sentenze, alle sentenze del giudice che sono sentenze normative. Perché? Perché il voto si rientra. Per cui quando il diritto in concreto non è specificato non lo fa il legislatore che ormai ha alla supersezione del sondaggio, non lo fa il regolatore perché spesso non ha i poteri e arriva a fatto il giudice. E però il diritto che viene dalla giustizia è per definizione sistematica, quindi non aiuta, anzi contribuisce a creare silos ancora più questi parametri. in tutto questo lo Stato che ci ne fa. Lo Stato era una macchina strana perché erano abituati a immaginarlo come operatore, come uno Stato che interveniva nel sistema perché controllava direttamente le imprese. Negli anni 90 l'abbiamo trasformato in Stato regolatore per cui il piantiamo usciva dal mercato e poi è diventato uno Stato finanziatore perché sul mercato le imprese non sopravvivono più, avevano bisogno di aiuto e poi si è trasformato in garanti perché non aveva neanche più i denari finanziari e quindi interveniva prestando garanzie e oggi è tornato operatore in questa circolarità di piano per cui oggi lo Stato è il principale operatore sul mercato perché lo Stato è il principale gestore dei dati che abbiamo ed è l'unico soggetto che può in qualche modo contrapporsi a una dinamica che di fatto è una dinamica tipicamente trasnazionale in cui le imprese sono imprese non italiane neanche più potenti. E quindi la gestione dei dati diventa fondamentale perché i dati non è che vengono gestiti, dipende anche dalla finalità in cui vengono gestiti. La finalità è un po' il tema su cui le autorità si concentrano perché il dato può essere utile per penetrare un mercato, pensate se Google acquisisse una licenza bancaria o insicurativa quanto impiegherebbe diventare la prima banca o la prima assicurazione in Italia, più o meno di 5 anni. Però la finalità può anche essere un'altra, può essere quella di limitare la capacità del concorrente minandone della reputazione e dell'altra diffusione di notizie più o meno rosine. E quindi quello che è finito ovviamente è il passaggio dai mercati alla politica e quindi alla democrazia che è abbastanza semplice oltre che particolarmente attuale. Però qual è la risposta a queste domande? La risposta l'abbiamo cercato di dare noi al termine di una ricerca che quest'anno si è concentrata proprio su come le autorità nei vari settori intervengono su questi due fonti, cioè gestione dei dati e tracking. Che apparentemente erano lontani quando abbiamo iniziato la ricerca, oggi vediamo dai giornali, dalla cronaca che in realtà sono particolarmente vicine. E l'analisi, non la so a indossare in dettaglio degli interventi delle varie autorità, evidenzia proprio questa difficoltà. Cioè la difficoltà di un regolatore che tipicamente se attende a regolare a rivalitarlo, regola bene e quindi indirizza la rivoluzione nella direzione giusta a mano fa evitarlo, oppure se interviene a regolare in anticipo rischia di non regolare il mercato ma di orientarlo e questo ha una fatica di conseguenze. E quindi è chiaro che il regolatore è preso tra questi due fuochi, tra questi due interessi contrapposti che deve di volta in volta contemplare. La velocità dei mercati è tale che obiettivamente oggi sta fatica anche a intervenire dopo, a regolare un regolatore di Stato e anche tra i settori, individuando lo Stato o il settore che consente una maggior operatività, perché quando si fanno i cancelli chiusi, la regolazione tende a chiudere il mercato e a disciplinarlo in modo completo e poi un cacciato rimane sempre aperto. Da lì passa poi il mercato. E questo lo abbiamo individuato, non poi in tutti i settori, ma per andare a grandi linee. Prendete l'autorità per la concorrenza. L'autorità per la concorrenza insieme a garanti elettorità, che sono le due autorità interseccoriali. Cioè le due autorità che più delle altre possono superare i siti o i regolatori verticali, perché sono una poca testa trasversale. E quando lo fanno, lo fanno andando a cercare di regolare i termini. Prendiamo i due, Big Data e Stegginota. L'autorità è intervenuta sull'influencer marketing, cioè la capacità appunto di fare un marketing basato su oggetti che sono più in grado di agli altri compromessi. Però quale strumento utilizza? Quello della pubblicità occulta, che evidentemente è uno strumento utilizzabile ma forse in parte spuntato e non adeguato. E sulle fake news interviene come una pratica commerciale scorretta, che anche essa è uno strumento pensato per altro, può avere questa funzione ma probabilmente non è quello dei dati. E per quanto riguarda l'ammissione dei dati, cosa può fare? Beh, può intervenire con abusi di posizione dominante, se però il mercato dei dati è considerato un mercato di posto istante. Ma di nuovo con dei limiti, perché gli interventi sono interventi a posteriori, che il focus è il backward looping, quindi un po' interviene se c'è stato non avuto, e anche qui le misure sono individuali che possono consistere in obbligi comportamentali o strutturali, ma non sono di sistema. Per cui vedete che per quanto l'autorità possa avere un interesse interventi a intervenire in modo sistematico, lo può fare sempre con i limiti. Per quanto riguarda la garanzia della Prasi, evidentemente è una volontà anche più delle altre oggi che è impegnata nell'applicare una normativa, perché è una riforma europea che è ancora parciale e non completa. Ci sono le margini di operatività nella applicazione del regolamento europeo nel ricevimento delle direttive, però è evidente che si tratta di un'azione diffusa, perché più delle altre è l'autorità che ha bisogno di collegamenti con l'autorità per la concorrenza, con l'autorità per le comunicazioni. Quindi obiettivamente questa collaborazione che non è limitata ai protocolli, ma una collaborazione effettiva è di fatto probabilmente l'elemento di rinvento. E qui venivo al coraggio dell'autorità, perché ricordate quando negli anni scorsi parlavamo di protocolli, diciamo che l'autorità devono collaborare, devono recuperare, e ci veniva detto, ma noi abbiamo già protocolli di intesa, quindi è un tema che non è un tema. Poi oggi abbiamo visto, abbiamo una cronica quotidiana, perché il tema non è tanto quello dei protocolli, tra Consumbo e Banca d'Italia, è un tema di collaborazione effettiva, perché è una collaborazione che deve andare a colmare le lacune della normativa, che appare così dettagliata, pensate che ci siamo un bancario, ed è dettagliata ma a monte, nella realtà concreta, nella pratica, è profondamente condizionata da una discrezionalità dell'autorità, che pian piano dobbiamo portare da una discrezionalità del caso singolo ad una flessibilità di sistema. E come si fa? Appunto andando a colmare i luoghi con la regolazione. E la regolazione deve essere di due tipi, deve essere una regolazione del mercato che va a indicare agli operatori i percorsi corretti e quindi consente una prevedibilità del diritto, ma va anche a riducare il consumatore, per consentire appunto di utilizzare la ragione in modo corretto e con coraggio per dirla a una campo. E questo poi lo abbiamo sviluppato con tutte le altre autorità, che non sono meno importanti, ma dando una dimensione di come ancora coordinare in ambito europeo nella rete dei regolatori europei un discorso di questo tipo. Quindi consentire che la regolazione sia un driver, di nuovo, per la gestione dei rapporti tra operatori e consumatori e per l'educazione dei consumatori. Andando a individuare una disciplina che può essere coordinata via europeo e che particolarmente può essere idonea in un settore in cui la gestione dei dati è molto più significativa, proprio perché appunto partiamo da una geolocalizzazione e da una gestione della profilazione individuale che poi consente agli operatori molte attività e che consente di gestire il dato in tanti modi. Il dato lo possono utilizzare loro, possono anche darlo ad altri, possono darlo a un grezzo oppure possono aggregarlo, questo ha un valore molto maggiore. Ecco, tutto questo probabilmente va disciplinato perché dove vogliamo arrivare con una regolazione del diritto del consumatore, non più dei consumatori, forse è un elemento che poi bisogna riflettere per garantire il nostro welfare, perché noi in Europa abbiamo un welfare che non è quello degli Stati Uniti, non è quello degli altri paesi. E se vogliamo mantenerlo tutelato, dobbiamo ragionare e coordinare la regolazione in questa dinamica. E' la regolazione che deve portarci a questa soluzione, non il legislatore. Vediamo oggi in tutti i giornali, in ordine, in soli 6 minuti, non è arrivato a un normativo che si possono dare definizioni di disciplina. Noi abbiamo in Europa una tradizione. Siamo decisivi a cogliere i fenomeni e a creare degli operatori europei e a creare una disciplina che poi è stata anche esportata nel consentito. Quando abbiamo effettuato una scelta e abbiamo indicato una regolazione che non era indicata da sotto, ma veniva dal basso. Uno degli strumenti più utilizzati oggi dall'Unione è quello della co-regolazione e dell'auto-regolazione. Da qui dobbiamo dire. Sono gli operatori che devono coordinarsi tra loro per individuare dei principi comuni. che è quello che vogliamo che sia il nuovo servizio pubblico, quello dove manchiamo per garantire il servizio pubblico. E questo possiamo fare in che modo? Poi gli operatori che devono coordinarsi per loro con le autorità che devono, possono non imporre, ma comunque reali con le condizioni che non hanno avuto. E qui di nuovo coraggio delle autorità che devono forse andare agli estremi, ai confini dei poteri che sono loro attributi. Ma dobbiamo parlare di un modo coordinato. Quindi non parlo più di protocolli tra l'autorità, ma di un coordinamento, qual è quello che si sta realizzando. Infatti sono le indagini non sono scelte, le grandi dettagli che si trova stanno avendo, e la concorrenza del mercato. Perché è a questo livello che oggi devono interessarsi. Perché, come diceva Mariana, siamo ormai al di fuori del sistema e stiamo costruendo un altro. e quale sistema vogliamo costruire, in qual è la direzione in cui vogliamo andare, probabilmente non ce la dice il legislatore. Non ce la dice il legislatore italiano, né quello europeo, perché siamo una roba a 27, quindi probabilmente questo flore minimo comune è troppo ridotto. Ce lo diranno le autorità. Come si coordinaranno e quali saranno le eleve che utilizzeranno e questi due fuori, decreto da Freti News, sono probabilmente uno degli elementi che ci consentirà di sviluppare e di essere in una direzione del posto di un'altra. Per questo parliamo di social, economico e speriamo che non sia poi derubricata a Greta, economica e mancanza di buonaggio. Grazie.